Grazie consigliere. Ora ha chiesto la parola il capogruppo della lista Lega, Elena Raffaelli. 20 minuti. Grazie Presidente dell'intervento principale. Ci sta che dai banchi dell'opposizione quando si parla di bilancio si parli di tutto e del contrario di tutto. E quindi che i toni siano quelli della campagna elettorale e che si dia spazio alla più ampia fantasia dei numeri. E non solo, uno su tutti i passaglini, sentirmi dire che dobbiamo fare i parcheggi a monte quando voi ne avete costruiti mille a mare, mi fa ridere. Prima è parlato di viabilità, bisogna essere anche un pochino coerenti su certi aspetti. Chiaramente ci sta, vi dicevo, tutta la provocazione ma non è mio intento cadere questa sera in nessun tipo di tentazione per cui mi limiterò semplicemente ad un discorso di presentazione generica di un bilancio. Lo farò in maniera estremamente lineare, serena e pacata, cercando di andare a stigmatizzare quelli che in realtà sono gli elementi di discontinuità che caratterizzano il nostro bilancio. Con una serie di modifiche e di provvedimenti che abbiamo già introdotto nel 2014 ed è per questo che noi diciamo che andiamo a riconfermare quanto c'è stato nel 2014. In primis vorrei ringraziare il sindaco, l'assessore il dottor Monaco, la dirigente dottoressa Farinelli e tutti gli uffici per l'impegno profuso e per la professionalità con cui hanno lavorato alla redazione di questo bilancio. Il bilancio che è, sappiamo, l'atto di indirizzo politico più importante quindi è il momento più alto del Consiglio Comunale perché va a tradurre in numeri la filosofia politica di chi governa. Qui si compiono le scelte, qui si definiscono quelli che sono le priorità ed è proprio nella gestione del bilancio che si misura una buona amministrazione soprattutto nei momenti di grande difficoltà economica. Per me è motivo di grande soddisfazione oggi presentare un bilancio perché per cinque anni l'ho subito e l'ho emendato stravongendone anche la natura e l'essenza e oggi mi dà soddisfazione invece poterlo presentare ed avere partecipato alla stesura dello stesso. Diciamo che il bilancio non è sicuramente il documento più facile interno all'ente è il più difficile da comprendere, è estremamente corposo perché gestisce le risorse, gestisce i soldi dei ricionesi e dei cittadini e anche in questo senso introduciamo un piccolo elemento di discontinuità perché è nostra intenzione pervenire questo documento in maniera estremamente semplificata, intelligibile e comprensibile a tutti in maniera tale che sia di facile comprensione e vi sia la chiara percezione e consapevolezza da parte dei cittadini di dove vengono spesi i loro soldi. Questo è in quale tipo, a quell'euro corrisponde quel dato servizio o quel dato bene? Questo è un elemento di chiara trasparenza che vuole essere un pilastro un elemento fondante del nostro fare amministrazione in questa città ed esprime anche un atteggiamento diverso nei rapporti col cittadino che vuole essere quello della vicinanza e quello più avanti della partecipazione alla redazione del bilancio stesso. Vorrei soffermarmi molto poco sui numeri che trovo estremamente noiosi per dedicare la massima attenzione invece all'anima e all'essenza di questo bilancio. Non ho personalmente la presunzione di dire che questo è e sarà il miglior bilancio della storia del Comune di Riccione ma è sicuramente un primo grande punto di partenza che traduce compiutamente la nostra filosofia politica. Quello che ci eravamo detto sia in campagna elettorale, quello che ci siamo detto nella presentazione delle linee programmatiche e quello che troviamo scritto nel DUP, se qualcuno lo ha letto, perché mi vengono dei dubbi. È un'attività che non si ferma qui naturalmente ma che proseguirà con una grande attenzione per andare ad aggredire quella parte di spesa rigida. Condivido con te Cicchetti la necessità di andare a rivedere i contratti con ERA, di andare a rivedere, ad annullare progressivamente un'attività che abbiamo intrapreso e che andremo sicuramente a concludere. Questo è un impegno che ci assumiamo. Quali sono i pilastri di questo bilancio? In primis la riduzione della pressione fiscale locale. Secondo aspetto il sociale, che è e sarà sempre una priorità per questa amministrazione. Il turismo, che è la spina dorsale della nostra economia. Ed infine il piano degli investimenti, mirato a grandi interventi di piccola manutenzione che voi avete dimenticato per tanto tempo. Quando dico voi mi riferisco naturalmente al Partito Democratico. Partiamo dalla riduzione della pressione fiscale, che muove da una concessione nuova e diversa della macchina comunale. La macchina comunale non è quella che deve produrre utili, ma tutte le risorse che entrano e si producono all'interno della stessa devono essere finalizzate alla riduzione della pressione fiscale. E la pressione fiscale, la pressione tributaria del 2015, in previsione nel 2015, è riconfermata sui valori del 2014, quindi senza aumento della tassazione locale, nonostante chiaramente i tagli del governo, rispetto ai quali non ci siamo pianti addosso, ma abbiamo reagito andando a mantenere quelli che erano gli obiettivi che questa amministrazione si era data. Il bilancio 2014 lo abbiamo modificato noi con una serie di provvedimenti, vi dicevo che andiamo a riconfermare e quindi il gettito tasi invariato sul 2014 con la riconferma dell'esenzione sulla prima casa, non mi stancherò mai di dirlo, la riduzione della tariffa nei nidi, che rappresenta sicuramente la parte più gravosa in termini di tariffazione per le famiglie, l'innalzamento della soglia dell'addizionale comunale IRPEF da 15.000 a 17.000 euro, un gettito invariato del LIMU rispetto al 2014, un Atari, come ricordava anche prima l'assessore, invariata sia per quanto riguarda le tariffe sia per quanto riguarda il piano finanziario, ma con due grandi obiettivi che abbiamo ottenuto e mantenuto. Il primo riguardano le agevolazioni concesse a tutte quelle attività che traggono un danno dalla presenza del cantiere, in particolar modo del TRC, con l'adozione di un regolamento che si potrà poi estendere anche in futuro per tutte quelle attività che saranno interessate per più di sei mesi dalla presenza di un cantiere per la realizzazione di opere pubbliche. E credo che questo non sia un intervento da poco, che è anche un chiaro indice della vicinanza, della consapevolezza che c'è da parte di questa amministrazione rispetto ai problemi della città e parallelamente una grande capacità di dare risposte immediate ai bisogni della gente. Credo che la nostra identità, contrariamente a quanto abbiate detto nei vostri interventi, sia estremamente chiara. Tornando al discorso della Tari, non posso non citare la riduzione per tutte quelle attività che hanno una licenza annuale e che in realtà lavorano soltanto per il periodo estivo, per la stagione, per i quali è previsto uno sgravo del 20%. Questo io non lo ricordo venire dai banchi del PD. Mi pare una buona, un buon viatico anche questo. Poi andiamo oltre. Il sociale. Quando sento dire che sul sociale ci abbiamo messo poco, mi cadono le braccia per non dire altro. Ci abbiamo messo 600 mila euro in più, perché il sociale è una grande priorità. Lo è e lo rimarrà all'interno dei nostri bilanci. Vi ricordo la scelta politica, compiuta qualche mese fa, di far ritornare in capo all'ente due segmenti della delega ASLE, quelle che riguardano gli anziani e i disabili. Perché innanzitutto l'ente nasce per dare risposte a questo tipo di bisogni e in seconda battuta per un vero e proprio desiderio, per una vera e propria volontà di essere molto più presenti sia in termini di report che di controllo e per dare numeri veri alla città. Non ultimo, io ritengo personalmente che tra noi, quindi tra l'ente e il bisogno, meno filtri ci sono e meglio è. Vorrei ricordare anche un altro passaggio, un altro numero, che è di 95 mila euro, che riguarda, che abbiamo messo noi come ente per sostenere a supporto dei disabili nelle scuole di secondo grado. Importo che veniva stanziato fino al 2014 dalla provincia e nonostante vi sia una dubbia competenza in merito, siccome noi siamo molto vicini alla sociale, i soldi ce li abbiamo messi noi come comune. Quindi credo che andare ad affondare la lama nel sociale non sia proprio il luogo giusto. Passiamo poi al turismo. Il settore del turismo non ha subito tagli come non li ha subiti quello del sociale, vi dicevo. Anzi, abbiamo aumentato di un po' gli stanziamenti, perché noi riconosciamo veramente nel settore turistico la spina dorsale della nostra economia. Faremo davvero, Passaglini, la promo commercializzazione, ma non come l'avete fatta voi per 70 anni. Cerchiamo di fare qualcosa di diverso, non dico di migliore, ma di diverso sicuramente. Andremo a predisporre anche del materiale video, del materiale cartaceo, proprio finalizzato alla promozione, perché abbiamo trovato veramente poca roba rimasta da voi. Il portale Riccione.it di cui parlavi, realizzato in accordo con le privato, sarà uno strumento per andare a promuovere non solo gli eventi del comune, ma anche tutte le attività commerciali, tutti i pubblici esercizi e sui quali sarà anche probabilmente possibile prenotare delle camere. Naturalmente il turismo si base, si fonda su una grande promozione ed organizzazione di eventi che vedono coinvolti, nel nostro caso, sempre molti settori congiuntamente, quindi lo sport, il turismo, la cultura e le attività economiche, cercando di creare le migliori e le più grandi opportunità per l'intero tessuto economico di questa città. Veniamo al quarto punto, che è quello relativo agli investimenti. Pastaglini, noi facciamo manutenzione ordinaria perché voi per tanti anni non l'avete fatta, quindi qualcuno ci deve pensare. Voi avete pensato a fare le grandi opere, noi invece siamo poverini e pensiamo di mettere a posto le buche, le strade, i marciapiedi, le ciclabili, i soffitti che cadono, le palestre che fanno acqua da tutte le parti. Noi abbiamo pensato a questo, forse non sarà la scelta migliore, però a noi pare una priorità. Come andiamo a finanziare gli investimenti? Chiaramente lo sappiamo, i mutui, gli oneri di urbanizzazioni e le vendite. Per cinque anni io ho visto un piano delle valorizzazioni e delle alienazioni quasi sempre uguale a se stesso, se non che ogni tanto spuntava una bella scuola da poter vendere, perché voi siete i maestri per vendere le scuole. Non possiamo naturalmente dimenticare quella, la vendita delle manfroni, dove ora sorgono otto piani di residenziale, vuoti peraltro, e quindi non paghi di quella dismissione, avete ben pensato di andare a vendere anche un'altra scuola, perché come centro di aggregazione forse per quel quartiere a voi sembrava troppo. Noi abbiamo in mente un principio molto chiaro, le scuole non si vendono, sono luoghi di aggregazione e di interesse che noi vogliamo, sottolineo vogliamo, mantenere in seno al nostro patrimonio. Abbiamo invece fatto qualcosa di nuovo, e questa è anche un'altra prova di discontinuità, nell'andare ad aggiornare un inventario dei beni per capire quali siano realmente strumentali all'ente e quali invece non lo siano più. Ed è di molto cambiata anche la tipologia. Vi ricordo l'introduzione della vendita della palastina della CGL, un appartamento sito in Viale Diaz di circa 37 metri quadri, due lotti in Viale Veneto di circa 540 metri quadri che si trovano più o meno all'altezza dopo il cavalcavia. Credo quindi che le innovazioni ci siano, l'attenzione sia massima nella ricerca, in una ricerca che non è mai stata compiuta in maniera così precisa come abbiamo fatto quest'anno. E vorrei fare a questo proposito anche chiarezza sulla questione dell'immobile della CGL, che sapete tutti essere collocati in Viale Ceccarini alta, per il quale questo ente per un edificio di tre piani percepisce 14 mila euro di affitto. Non si vuole cacciare nessuno, non si vuole nemmeno disconoscere il valore del sindacato sul territorio per calità, si vuole solo valorizzare il nostro patrimonio, uno degli ultimi gioielli da poter collocare sul mercato, senza peraltro voler escludere nessuno, perché tutti potranno, compresa la CGL che c'è dentro, fare una loro proposta o comunque venire a farsi vivi, tra virgolette. Abbiamo anche in mente di introdurre un'altra novità in un ente che abbiamo trovato abbastanza spento, diciamo poco vivace da certi punti di vista e poco dinamico. E la novità è quella di andare a creare una figura interna, quindi già presente all'ente, che andrà adeguatamente formata, finalizzata alle vendite, perché le vendite chiaramente sono importantissime per andare a finanziare la parte degli investimenti. E per vendere bisogna essere anche dei bravi mediatori, quindi bisogna essere capaci di presentarsi, di presentare, bisogna dare la massima disponibilità e quindi andremo a mettere in seno a questo comune anche un nuovo servizio efficiente ed efficace. Passando poi al triennale dei lavori pubblici, che poi vedremo dopo con l'assessore, abbiamo mantenuto quelle opere che già presentavano uno studio di fattibilità, che erano già state approfondite, che sono opere logiche che noi abbiamo assolutamente condiviso, ma anche qui abbiamo compiuto un'operazione di verità. Pensate soltanto all'ampliamento di Viale Venezia, per il quale era stato dato un numero a caso di 1.800.000 euro. Nel momento in cui siamo andati a fare i conti bene, ad aggiornare questi valori, serve un milione di euro in più. Quindi anche qui c'è stata un'attenta opera di verità. Sì, l'ampliamento di Viale Venezia. E mi accingo alle conclusioni. Questo bilancio chiaramente mi, barra, ci soddisfa. Come vi dicevo, è un'attività che continuerà, che andrà a migliorarlo e a perfezionarlo. E mi soddisfa perché va a confermare quelle che sono le nostre priorità. Quindi, torno a ripetere, la riduzione della pressione fiscale, l'attenzione massima al sociale, la massima attenzione allo sviluppo turistico di questa città, le grandi opere e i grandi interventi di piccola manutenzione, affinché si ricrei in questa città una nuova percezione qualitativa di una città che si sta risvegliando e che vuole non solo tornare ad essere bella, ma l'ambizione di voler essere la più bella. Grazie. Grazie, consigliera Raffaelli. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi c'è la replica finale del sindaco, dall'assessore. Prego, assessore. Volevo ringraziare intanto i consiglieri sia di maggioranza che di posizione per gli spunti che sono pervenuti questa sera in aula. Ringrazio in particolar modo logicamente i miei consiglieri di maggioranza perché insieme a me hanno condiviso, insieme a noi hanno condiviso il percorso di formazione di questo bilancio, insieme a noi sono stati frutto di stimolazione di quelle che erano le sollecitazioni pervenute dalla città raccogliendo all'interno dei vari quartieri, fino alla via all'interno dei bar, le richieste desiderate dei cittadini che noi abbiamo cercato in qualche modo di esaudire. Nel mio intervento iniziale ho parlato di un bilancio con identità precisa, immaginavo che la scarsità comunque di ammendamenti andasse in quella direzione, cioè nel dire avete copiato il compito. Su questo mi sento sinceramente di non poter condividere logicamente l'affermazione che ha fatto il PD o comunque in parte è stata valorata da De Cinque Stelle. Dov'è la differenza fondamentale? L'ha detta mi sembra prima la consigliere Raffaelli, noi abbiamo avuto tagli, comunque minori entrati e maggiori spese per 4 milioni, non ci siamo pianti addosso, abbiamo a suon di 10 mila euro, come dice il consigliere Cichetti, va bene, a suon di 10 mila euro abbiamo recuperato quei 4 milioni, l'anno scorso quei 4 milioni sono stati recuperati introducendo 3 milioni di tasi, che noi vi abbiamo ridotto due, quindi qui già c'è una prima sostanziale spallata rispetto al passato, è chiaro che è da scellerati stravolgere un bilancio da un anno all'altro, bisognerebbe davvero essere degli responsabili, il cambiamento va fatto, sarà costante e non si fermerà per tutto l'arco del mandato. Aggredire i contratti di era, rifiuti, era, luce e lo stesso a rinegoziazione fatta con Giat. Sono procedure che non è che in 10 mesi si riesce a fare, non vogliamo prendere la scusante del tempo, sono colossi che quando si siedono al tavolo, come dice il consigliere Cichetti, sorridono, ma noi l'impegno lo mettiamo lo stesso, non ci fermano le loro risatine. Forlì e Cesena stanno tracciando un solco che stiamo seguendo con molto interesse con l'assessore Vicharelli se volete, dopo vi può illustrare la posizione. Contratto di era luce, abbiamo già cominciato, che è quello che Pazzalini si aspettava, Pazzalini se non sbaglio ha detto te che dovevamo smettere quei rifiuti, aggredire di più il contratto rifiuti, ma io ho parlato dell'aggressione al contratto di era luce, quindi l'illuminazione pubblica. C'è una norma che ci dice che laddove le condizioni praticate mediamente sul MEPA siano più favorevoli rispetto a quelle praticate dai contratti in essere, si può uscire e stiamo dietro le verifiche tecniche e poi procederemo. Con Giat avete parlato di una riduzione del servizio, ma Giat ha lavorato con noi sul nostro e sul loro bilancio, Giat è il nostro braccio armato, questo milione che gli abbiamo chiesto, come avete sentito da Cichetti, il 18% è il loro margine certamente, il 22% è mediamente l'IVA, il resto è efficientamento. Giat ha professionalità, competenze e capacità per reggere questo impatto, ci sono persone valide, persone che sanno fare bene il loro lavoro e persone sulle quali contiamo molto. Per quello che riguarda il discorso dell'innalzamento del debito, chiaramente sì, di questo passo andiamo a fare 5 milioni di euro di debiti all'anno, ma ne stiamo anche estinguendo 5 milioni e 2, 5 milioni e 3 all'anno, quindi il differenziale è sempre positivo per noi, cioè lo stock di debito continua a calare, non con la stessa velocità di prima, chiaramente, i miei figli probabilmente come dice Cichetti avranno ancora qualche debito da pagare. Spero sicuramente, spero e mi impegno perché da buon padre di famiglia, tra 5 anni di avergli lasciato meno di 78 milioni di euro di quando sono entrato io, quindi stiamo lavorando in quella direzione. Per quello che riguarda la trasparenza, adesso io qui, è una risposta che devo, perché sinceramente mi sento un po' tirato in causa, perché la trasparenza che è stata chiesta è stata chiesta sui dati di questo bilancio. I dati di questo bilancio, va bene, abbiamo preso la proroga per portarlo qui in Consiglio Comunale, per portarlo nelle commissioni, però il bilancio è stato fornito alle parti 27 giorni prima di oggi, contro i 20 previsti da regolamento. Sono state fatte tre volte le commissioni per gli amendamenti, per la spiegazione, è stata fatta per la prima volta, la prima commissione, con quasi tutti i dirigenti del Comune, a parte due che erano assenti, i quali hanno spiegato i loro PEG singolarmente, hanno illustrato i loro interventi, hanno spiegato esattamente cosa si andava a fare con i soldi dei cittadini. Sono stati forniti file Excel a richiesta, sono stati forniti documenti di lavoro interno, anche addirittura punti scritti a pena sono stati spiegati e consegnati. Chiaramente la richiesta ha delle tempistiche, magari non il giorno dopo, due giorni dopo, una settimana dopo, però sono stati messi tutti in condizione di lavorare e di fare il proprio lavoro all'interno di questo bilancio. Come diceva poi la consigliera Raffaelli, il sociale non è stato assolutamente ridotto allo stanziamento, il sociale non solo è stato mantenuto quello dell'anno scorso, ma abbiamo anche ribattuto senza perdere niente da nessun'altra parte i nuovi incarichi e le nuove deleghe. Un'ultima risposta mi sento di darla al consigliere Cicchetti quando paragona il nostro debito pro capita con quello di Rimini. Noi abbiamo circa il 2003, come faceva giustamente notare il consigliere, 2003 c'è, scusate, 2003 vado fuori, era in lire dai, Rimini 800 mila euro, ma Rimini mi sembra di aver verificato, poi magari lo possiamo guardare insieme il consigliere, ha tutti i debiti sulle partecipate, ha tutto su Rimini Holding, non ha sul comune. Comunque è una cosa che come dice lei, con Google si ritrova tutto. Grazie. Grazie Assessore. Allora, tra gli interventi che si possono fare, in conclusione degli interventi dei singoli consiglieri, c'è anche l'intervento del sindaco, quindi se il sindaco vuole... Tutti possono intervenire sui singoli punti, non solo il sindaco, però il sindaco ha spazio in questo momento per un intervento. Prego. Beh, un intervento credo mi sia dovuto, anche perché non ho mai tanta popolarità, ho riscontrato come questa sera, veramente, essere citata addirittura nel mio primo mandato è una cosa eccezionale, ne sono contenta, ti ringrazio Vincenzo perché sono io, sono quella di prima esattamente identica. Io adesso ho però una bella opportunità che mi hanno regalato e ci hanno regalato i cittadini ricionesi, cioè ci hanno dato fiducia e ci hanno chiesto di governare per i prossimi 5 anni la città di Riccione. E io ringrazio tutti i giorni perché non potete capire non solo quant'è la gioia di poter contribuire al miglioramento della città di Riccione, ma soprattutto non potete capire quante sono le opportunità che si hanno nel governare questa città. E voglio anche restituire probabilmente un po' a Cesare quel che è di Cesare, lo dico costantemente con i ragazzi della Giunta, che non è possibile che tutte queste opportunità arrivino perché ci siamo qua noi, no? Perché veramente tutti i giorni c'è quasi da chiudere la porta per quante sono le occasioni che ci vengono offerti in una città che non solo è tornata finalmente a sorridere, ma che dà veramente grandi opportunità. Quindi credo che qualcuno forse aveva dimenticato come si aprono le porte e aveva dimenticato come si fa il sindaco o come si deve fare il sindaco, mettendosi completamente a servizio della cittadinanza, della collettività, senza mai sottrarsi, essendo sempre presente e essendo sempre disponibile ad essere in ogni dove. Noi credo, cercheremo di non perdere nessuna occasione e credo che in questi pochi mesi nei quali siamo per fortuna al governo della città, siamo stati in grado e credo sia sotto gli occhi di tutti in maniera molto oggettiva, di regalare, restituire a questa città semplicemente ciò che merita, perché voglio in questo caso veramente togliermi molto dei ringraziamenti che ai meri volgono a me, perché giustamente sono il primo cittadino e voglio restituirli invece a quelli che giustamente li devono avere. Il lavoro della giunta è costante, continuo e non veramente senza mai fine, però credetemi, la maggior parte delle cose che finalmente si stanno realizzando in città, e parlo delle piccoli e grandi cose, sono grazie ai riccionesi. Tutto ciò che siamo riusciti a fare, anche come eventi, sia per il periodo natalizio, ancora di più per questo periodo pasquale, dove, credetemi, le opportunità e le occasioni, nonché gli interessamenti da parte direttamente degli operatori, è solo grazie a loro. Oggi facciamo addirittura fatica a contenerli, tutti i giorni arrivano richieste per organizzare qualcosa, per rivalutare una zona, abbiamo la vivacità della città che è tornata veramente come un vulcano e di questo noi siamo, è la parte che più ci dà energia, più ci dà forza e ci permette veramente di essere costantemente e senza paura tutti i minuti sul pezzo, perché è assolutamente importante rimarcare tutti i minuti questa esigenza. Quindi prima di tutto andava fatto questo tipo di ringraziamento perché è giusto essere anche onesti, soprattutto intellettualmente. Su questo e proprio sulla base di quest'ultima affermazione, io questa sera ho sentito interventi che effettivamente ha già per fortuna in gran parte stigmatizzato i nostri consiglieri di maggioranza, ma in modo particolare nell'ultimo intervento di Elena, ma che veramente lasciano a bocca aperta, perché noi abbiamo fatto una politica sul bilancio veramente differente rispetto al bilancio che abbiamo ereditato, probabilmente non tutta compiutamente si vede, ma per fortuna saremmo mandracche, siamo qui vi vorrei ricordare da dieci mesi, non è che abbiamo la incapacità di poter trasformare un bilancio a nostra immagine e somiglianza in un primo mandato, però credo che i primi passi si siano notati e veramente in maniera determinante. Vogliamo dirne una? Ci parlava poc'anzi del boulevard, dei paesaggi, sempre contestato da noi quando eravamo in opposizione e immediatamente eliminato come veramente non una priorità, mettiamola così, nell'ambito del triennale, ma quello che era grave del boulevard, del paesaggio, per i quali tutti stigmatizzavano questa corona verde che doveva essere realizzata nella città con la modica cifra di 5-6 milioni di euro, erano sapete cosa? I 350 mila euro invece che i ricionesi hanno pagato per la consulenza e credo che un consulente interno per realizzare un boulevard del paesaggio forse c'era. Ecco, forse un geologo nella nostra organigramma non c'è e non è necessario andare a cercare un geologo per fare il dirigente, perché fare il dirigente è una cosa e fare il geologo è un'altra, mentre sicuramente un architetto capace di poter disegnare una corona di verde poteva essere sicuramente trovata, così come mi pare necessario stigmatizzare anche il fatto che, bellissimo, eliminare le macchine sopra la ferrovia, no? Questa è stata, no? Eliminare, scusa, le macchine è stato proprio così, la frase che i due hai detto è stata eliminare le macchine in superficie allora? No, no, sotto la ferrovia qui da noi è arrivato sotto la ferrovia, però se è in superficie vorrei ricordare che avete realizzato, mille parcheggi nei lungomari e credo che forse qualche macchina bisognerà farla rivare, anche perché il lungomare, vorrei ricordarlo, abbiamo noi ereditato, con grande senso di responsabilità lo stiamo affrontando senza negare assolutamente nessun minuto alla questione, ma avete potuto leggere dalla stampa, quei contratti che il PD siglò relativamente alla realizzazione dei lungomari oggi tornano al pettine e per entrambi, singo il lungomare 2 che è il piazzale San Martino, la richiesta complessiva di danni è di 40 milioni di euro. Questa, se si chiama gestione oculata delle risorse pubbliche e del patrimonio pubblico, io ho qualche dubbio in merito. Parlando invece di trasparenza, perché è una cosa che ho sempre sottolineato ed è una cosa che regalerò sempre, infatti per quanto riguarda il piano delle razionalizzazioni, voi sapete quanto io sia ligia al rispetto delle norme, il piano delle razionalizzazioni delle società partecipate doveva ed è stato fatto con un atto sindacale, stranamente qualcuno crede che un atto sindacale non sia sufficientemente trasparente, peccato che sia pubblicato come qualsiasi atto del sindaco sul sito del comune, quindi più trasparente di così non si può, se poi vuoi disquisire con l'amministrazione se la scelta di una partecipata era giusta rispetto ad un'altra possiamo disquisirne quanto vuoi, l'amministrazione ha fatto la scelta di andare a uscire da società come Itinera, che credo non si sappia neanche di che fa nella vita, Unirimini, altrettanto società che ha gestito per tanti e gestisce forse, l'università è che non ha mai avuto una ricaduta nel comune di Riccione, mai, non c'è stata mai un'attività dell'università sul comune di Riccione. Abbiamo poi deciso di uscire da Apea, l'ho detto credo 500 volte da quando sono diventata sindaco e lo riaffermo e l'ho anche scritto, l'abbiamo anche deciso assieme, usciamo da Apea perché Apea è una società inutile che appartiene ad un altro momento storico, non ha prodotto nulla in questi anni se non tanti bei compensi agli amici, punto. È una società che non ha dipendenti, è una società che dovrebbe chiudere, qualcuno ha già paventato nell'ambito della propria razionalizzazione delle partecipate anche di poterla mantenere mandando qualcuno in comando, inventandosi delle norme, capite? Io questa cosa non la faccio e non la farò mai, quella società non ha dipendenti e secondo la legge della razionalizzazione delle partecipate, secondo la legge e lo studio Cottarelli, il numero degli amministratori di una società deve essere inferiore ai numeri dei propri dipendenti. Percato verla che non ne abbia zero, zero dipendenti, ci è costata però parecchi soldi in questi anni, circa 500 mila euro e credo che vada immediatamente sciolta, però qualcuno, nello specifico uno degli altri due soci, si sta inventando addirittura il comando dalla propria amministrazione per farla mantenere in vita. Questa si chiama razionalizzazione delle partecipate, questa si chiama ottimizzazione delle risorse? Certo che no. Abbiamo poi deciso, di uscire anche dalle farmacie comunali. Mi sembra un'ottima idea perché le farmacie comunali non distribuiscono utili nella misura adeguata in quanto il proprietario, l'altro proprietario a conto noi ha oltre che l'80% del capitale sociale, ha quindi interesse a patrimonializzarla e non certamente a ripartire utili. Noi andremo a discutere, cercheremo in tutti i modi, senza finte pratiche, ricordo il bando per la vendita delle azioni a favore dei dipendenti che fu una bufala e senza finte, come dicevo, privatizzazioni invece andremo tranquillamente a chiedere di uscirne cedendo, comunque sperando insomma di trovare un acquirente a questo pro perché penso che da queste che non sono attività che l'ente pubblico deve fare potremo trovare invece quelle risorse che ci sono utili, molto utili, per mettere in campo tutti quegli investimenti che abbiamo scelto di fare e che si spostano fondamentalmente e ne siamo orgogliosi della scelta nella manutenzione di piccola entità. Noi vogliamo andare a regalare a questa città de coro, non è più possibile passare per le strade e vedere più buche che asfalto, non è possibile non camminare sui marciapiedi e andremo logicamente anche a battere tutte le barriere architettoniche, sarebbe bella, anzi noi siamo quelli e facevamo un discorso con l'assessore allo sport Carlo Conti che proprio quest'estate nell'ospitare i giochi aziendali e nello specifico anche i giochi aziendali per Parolimpici e avremo la fortuna di avere addirittura come ospite Pancalli, noi vogliamo farne un paladino, inviteremo lui a venersi a misurare in città per aiutarci oltremodo ad eliminare le barriere architettoniche, il problema è che in questa città banca anche il minimo, cioè la barriera non è un problema perché addirittura manca il marciapiede in alcuni casi, quindi siamo contentissimi di aver inserito come grande priorità nell'ambito del nostro triennale appunto la piccola manutenzione perché è quella che la città necessita e non vi dico che cosa non è in termini di elenco di desiderata quelle che sono le elencazioni che riceviamo dai cittadini quando abbiamo la fortuna di incontrarli nei nostri incontri settimanali, è tutto un elenco di marciapiede, è tutto un elenco di asfalto è tutto un elenco di piante, voi capite quanto era stata abbandonata la città in questi ultimi anni la trasparenza poi vuol dire anche forse aver fatto pulizia in qualche cassetto forse qualcuno se l'è dimenticato che le fiduzioni a favore di Aeradria mai passate in giunta e mai passate in consiglio comunale qualcuno finalmente li ha tirate fuori da questi cassetti e le ha rese per l'appunto trasparenti vogliamo ricordare le due cause che noi ci siamo trovati perse nell'ambito del palas e che invece però saranno da noi rimarcate fino alla ricerca di qualcuno che nell'ambito dell'amministrazione di quella società ha firmato atti arrecando un importantissimo danno al comune di Riccione questa per me è la trasparenza andare appunto a fare le pulizie, andare ad aprire cassetti a regalare veramente aria nuova in questa amministrazione per quanto riguarda poi un piccolo accenno a quella che era la valorizzazione dei beni dell'amministrazione quando siamo arrivati abbiamo preso logicamente come avrebbe fatto sicuramente chiunque di voi l'inventario e stranamente lo abbiamo trovato leggermente carente e quindi abbiamo pensato immediatamente di aggiornarlo le novità sono venute fuori per fortuna anche positive abbiamo rintracciato due bei lotti da mettere in vendita in via Piemonte un bel appartamento in via Veneto scusate un bel appartamento in via Dias ho anche l'intenzione, abbiamo anche l'intenzione di mettere in vendita comunque i lotti di via Piemonte abbiamo un piccolo contenzioso Piemonte questi sì non li abbiamo ancora inseriti nel piano delle valorizzazioni perché c'è qualche contenzioso in essere giusto per gradire ma subito dopo la transazione che speriamo di concludere le metteremo in vendita dicevo che abbiamo trovato per fortuna qualche bene che forse può avere un'appetibilità ma soprattutto ci siamo regalati il lusso di togliere finalmente alcuni beni che sono scandalosi e averli visti nella valorizzazione come le scuole e invece abbiamo inserito la CGL la CGL è un importantissimo imbombine di questa città e va valorizzato perché la legge ci dice che dovremo mettere in vendita tutto ciò che non è strettamente funzionale all'esercizio dell'ente e credo che il servizio della CGL che è un servizio importantissimo possa essere tranquillamente esercitato in qualsiasi altro bene anche privato abbiamo avuto la fortuna io e Roberto di incontrare la rappresentanza della CGL abbiamo con loro disquisito in merito gli abbiamo offerto anche altri beni che sono pubblici e loro ci hanno candidamente, serenamente dichiarato che vogliono stare a Riccione che staranno a Riccione e che hanno già tre trattative con i privati non è scandaloso, forse se qualcuno qualche anno fa quando il mercato era un mercato vivace ed era un mercato che accettava quel tipo di immobile lo avesse messo seriamente in vendita forse questa amministrazione avrebbe avuto più risorse e meno debiti noi comunque lo faremo perché quello è un immobile importante abbiamo concesso loro se è necessario anche un piccolo margine per il trasloco comunque al primo gennaio del 2016 l'immobile sarà libero abbiamo deciso di metterlo in vendita nel 2016 perché crediamo che il miglior risultato si possa ottenere senza alcun diritto di prelazione e così faremo cercando in maniera puntuale e precisa anche di poterli fare visitare gli immobili mi sembrerà strano ma in questa amministrazione prima che noi avessimo deciso di formare una persona in merito nessuno aveva le chiavi o poteva o aveva voglia o voleva andare a far vedere un parcheggio o non voleva andare a far vedere un immobile mentre noi abbiamo ritenuto necessario e importante quando si tratta di fare una vendita essere disponibili per far vedere gli immobili per fare vedere la loro localizzazione e il loro stato nonché poter far capire anche a chi viene dal privato chi viene dall'esterno ed è interessato all'acquisto di un immobile che cosa di quell'immobile si può fare dove si può eventualmente trasformare come si può intervenire credo che questa sia un'attività giusta e corretta nell'ambito di un ente che ha come finalità quello di vendere tutto ciò che non è necessario appunto per fare ente pubblico al fine di evitare in tutti i modi di ulteriormente indebitarci perché questa è la seconda finalità noi abbiamo inserito sì 5 milioni e 98 mila euro di mutui ma non significa che andremo a siglarli e andremo a stipularli completamente perché anche l'anno scorso se non erro ci sono stati da parte dell'amministrazione deliberati la possibilità di stipulare 2 milioni di euro ma che abbiamo chiuso in uno e mezzo quindi siamo attenti precisi e puntuali perché non ci è mai piaciuto e non ci piacerà mai continuare ad indebitare un ente pubblico perché vuol dire continuare ad indebitare una città e i suoi cittadini per quanto riguarda il piano delle valorizzazioni dicevo come avevo detto nel 2005 e 5 forse nel 2009 ma sono state tanti anni in consiglio comunale forse non l'ho detto talmente tante di quelle volte che è da stancarsi in questa sala comunque molti degli immobili anche inseriti da noi nelle valorizzazioni non hanno una perizia compiuta e in modo particolare mi riferisco alla Bertazzoni è stata una scelta una scelta precisa perché è cambiato un po' il mondo nel senso che noi abbiamo avuto la fortuna di ricevere dal demanio alcune parti di patrimonio precedentemente demaniale che oggi è diventato patrimonio comunale che abbiamo desiderio di accorpare alla Bertazzoni per fare della stessa un vero e appetibile immobile in vendita e nello specifico mi riferisco al piazzale Lato Riccione nonché abbiamo anche riscontrato per fortuna nostra che la Bertazzoni è anche una bella spiaggia quindi avremmo il desiderio rispetto alla perizia che abbiamo in in bozza nell'amministrazione di andare ad accorpare anche la spiaggia perché capite che cosa diventa l'appetibilità di un immobile come la Bertazzoni che ha la capacità di diventare un albergo di essere demolita e ricostruita avere dalla sua anche una spiaggia privata noi abbiamo interesse a che gli immobili vengono valorizzati al meglio perché è la cosa più importante per la città mi scade il tempo ma una cosa la volevo dire quindi per quanto riguarda gli investimenti e per quanto riguarda la scelta della parte straordinaria l'avete credo di averla bene illustrato ma eventualmente avremo modo poi successivamente nella squisizione dei singoli delle singole pratiche anche di rimarcarla quello che volevo invece stigmatizzare nella parte ordinaria del bilancio che è la parte più corposa che il nostro lavoro è solo all'inizio è un lavoro che sarà costante e puntuale e preciso che ho chiesto sia agli assessori nei singoli PEG sia ai singoli consiglieri perché noi dovremo sempre di più aggredire quello che per fortuna siamo riusciti già ad aggredire nella parte ordinaria riassorbendo completamente la parte delle mancate entrate e tagli dallo Stato ma non è sufficiente lo so grazie Vincenzo per avermelo ricordato è un passo solo in avanti ma è un passo di inizio che noi continueremo a fare perché la parte che ci interessa di più è permettere di rispondere sempre più puntualmente ai bisogni della città e chiedere sempre di meno ai nostri cittadini grazie sindaco grazie grazie allora riprendiamo a questo punto l'ordine dei lavori come da ordine del giorno con il punto numero 3 il comma 3 dell'ordine del giorno che è il piano triennale 2015 2017 delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio del patrimonio immobiliare scusate del comune di Riccione come da articolo 58 della legge 133 2008 e successive modifiche e integrazioni proponente e l'assessore al bilancio Roberto Monaco alienazioni e valorizzazioni se ha qualcosa da dire comunque la delibera non è stata messa in votazione faccio presente che tutte le pratiche che seguiranno da qui in avanti sono state trattate nell'ambito generale del bilancio adesso andiamo avanti delibera per delibera quindi se l'assessore o chiunque o chiunque dei gruppi voglia intervenire può comunque farlo come in una qualunque delibera ovviamente le delibere che hanno degli emendamenti per le quali sono stati presentati emendamenti verranno votate con le usuali modalità quindi prima l'emendamento e poi la delibera come al solito procediamo come al solito siamo al piano delle alienazioni e valorizzazioni se qualcuno vuole intervenire su questo punto può farlo diversamente andiamo direttamente a votare perché non ci sono emendamenti su questa pratica se l'assessore non ha nulla da aggiungere ha chiesto la parola al consigliere Casadei prego buonasera grazie presidente buonasera a tutti gli intervenuti io colgo l'invito e penso al senso di una di una sana e giusta opposizione che spesso tu Lele ci inviti a essere e a fare dando cercando di dare quelli che sono secondo me e secondo noi come Partito Democratico degli spunti ma soprattutto degli elementi che abbiamo trovato un po' discordanti all'interno di questa proposta di delibera nel piano troviamo una grandissima anomalia nel punto 4 della proposta ve lo vado a leggere nel punto 4 si propone che sia il Consiglio Comunale a dare mandato ad autorizzare la Giunta per apportare con apposito provvedimento tutte le integrazioni rettifiche e precisazione non sostanziale che si rendessero necessarie meglio definire gli immobili e le aree di cui all'allegato piano e a valutare ed eventualmente approvare i singoli provvedimenti di allenazione nel caso in cui le peristie tecniche definitive si discostino per difetto dai valori indicati nell'allegato piano di una percentuale non superiore al 15% tradotto con il voto del Consiglio Comunale si fa in modo che in Giunta passino queste pratiche senza poi tornare con questi chiaramente elementi che appunto ho letto passino senza poi tornare all'interno del Consiglio ad essere sottoposti giustamente a discussioni in maggioranza posizione per noi dal punto di vista di Partito Democratico questo elemento è inaccettabile è inaccettabile per una serie di motivi primo dal punto di vista di regolamento nel 90 è stata introdotta una legge che è la legge 142 sostituita al decreto legislativo 267 del 2000 che cancella tutte le deleghe del Consiglio Comunale alla Giunta ogni modifica del piano deve infatti passare in Consiglio Comunale che chiaramente in un discorso in un dibattito tra maggioranza e opposizione si deve poi pronunciare su quelli che sono i temi e soprattutto sugli importi delle vendite ad esempio di Asta per i relativi valori tant'è e mi sorprende molto di più in relazione al concetto di trasparenza che il sindaco e tutta la maggioranza spesso enunciano che in queste voci anche per detta vostra nei interventi precedenti sono stati dati dei valori a volte senza una leare perizia vale a dire dei valori presunti improvvisati c'è scritto anche nel senso che abbiamo parlato dell'appartamento in via Diaz dove un 36 metri quadrati in quella zona è valutato 50.000 euro quando ne varrà credo almeno il doppio mi riferisco ai lotti di via Veneto o ai posti auto del paracongressi fino ad arrivare alle libertazioni dove è stato stimato 10 milioni di euro dove in realtà con un bel asterisco si dice che è un valore come si ripeteva prima puramente indicativo anche perché manca completamente la destinazione d'uso essenziale per dare un valore di riferimento su questo atto di vendita il punto secondo la nostra analisi di opposizione Montanari che studia e che porta degli elementi di riflessione dei contributi è che in questo caso in questo piano delle nazioni si sono fatte le cose troppo di fretta non c'è una logica di programmazione non c'è una logica di sviluppo e non lo dico con polemica lo dico come analisi di quello che è il nostro patrimonio nostro ma di tutti noi di riccionesi in questo elemento guardate paradossalmente il ritorno delle pratiche in consiglio comunale alla luce dei dati mancanti e di valori dati senza tener conto di reali perizie che a volte sono troppo indicativi diventa ancora più importante nel concetto di trasparenza si fa e vi fate una grande forza noi faremo della trasparenza la nostra migliore arma ma in realtà nell'amministrazione precedente l'amministrazione di Massimo Pironi si dava atto che con separate deliberazioni consigliari si provvedeva all'eventuale integrazione del presente piano d'ordine e ai dati mancanti o presunti indicati cioè quando c'era una variazione si tornava qui si parlava maggioranza opposizione si discuteva e da lì si prendeva una decisione qui il processo è un altro si chiede con questa proposta di dare mandato esclusivamente alla giunta di farlo e lo dico nell'interesse nostro di opposizione e vostro di consiglieri di maggioranza di sapere quello che si va a identificare e quello di cui si va a parlare la trasparenza chiaramente come dicevo non è solo un problema di legittimità ma è un segno di trasparenza giustamente lei sindaco dice la regalerò sempre infatti io la chiedo e credo che qui dovrebbe esserci un segno di maturità nel non accettare questo tipo di passaggio con questa delibera infatti si chiede che sia come ho già detto il consiglio comunale ad autorizzare la giunta guardate in via consultiva io mi sento come partito democratico di richiedere una dichiarazione al segretario comunale sulla legittimità di questa procedura inoltre ci riserviamo la possibilità di fare ricorso agli organi opportuni vale a dire alla corte dei conti nel qual caso ci siano degli elementi che non rispettano le procedure vado a farvi un'analisi del piano delle alienazioni visto che si è parlato di tentativi di fare in modo che con questa amministrazione si dia una reale visione di quello che è il patrimonio allora andiamo ad analizzare velocemente 3-4 voci partiamo col primo la caccetta siamo partiti qualche anno fa con un valore di circa 1.200.000 euro siamo scesi prima a 900 oggi è arrivato leggo a 700 12.000 euro e 500 visto che ogni anno si abbassa la mia domanda ovviamente è legittima vorrei sapere cosa succede se non la vendessimo subito cioè nel senso continuiamo a scendere quello è un bene che potrà arrivare a 500 400 oppure abbiamo un'idea di quello che comunalmente possiamo farci sopra i lotti di via veneto il sindaco e la maggioranza si complimentano del fatto che questi lotti siano stati messi in vendita nella passata legislatura c'era io l'ho detto anche in commissione su questi lotti c'era un progetto comunque un tentativo adesso lo definisco di autocostruzione ma dopo mi rilascio su un concetto che il sindaco sa molto meglio nel quale si dava la possibilità di avere un terreno a un costo inferiore e lo si dava per le nostre famiglie in difficoltà visto che si sottolinea l'aspetto sociale del fatto che la città di Riccione non deve perdere l'elemento lo spunto di riflessione che vi porto è questo nel senso che saremo pronti noi oggi a fare in modo che in quei lotti con un prezzo diverso quindi che non è questo riportato sul piano di allenazioni ci sia la possibilità di darlo alle famiglie che non hanno difficoltà ma che si impegnano a costruirci sopra con un valore chiaramente inferiore ma dando la possibilità è il nostro contributo come comune anche perché lo ricordo e lo dico dopo dei documenti che posso darvi non faccio come cicchetti che vi do subito se voi guardate a Roma nel Consiglio Comunale di Roma nel territorio di Roma nel Comune di Roma ci sono diversi progetti di autorecupero e sono progetti che funzionano nello stesso identico modo non sui terreni ma spesso sui beni immobili il Comune cede questi beni a prezzo favorevole per quanto riguarda ovviamente gli abitanti della città e lo fa perché gli abitanti si impegnino a fare in modo di recuperarli per viverci chiaramente con una graduatoria per tutte quelle persone che ovviamente hanno una grande difficoltà lo stesso sindaco lei Tosi parlava io ho preso la trascrizione degli interventi dell'anno 2014 sul bilancio e lei ha guardi non l'avevo neanche letto che l'aveva fatto prima di me ma è ovvio esatto no no ma guardi nel senso che io ho visto e abbiamo reputato come Partito Democratico questa necessità nel territorio lei in quel momento vale a dire l'anno scorso parlava di housing sociale la dismissione del terreno è riferito al concetto del terreno di Misano voi sapete che in questo concetto di alienazioni c'è un'area in comune di Misano Adriatico dove un valore iniziale era di 2 milioni 460 mila e oggi è riportato a un milione quindi il valore è sceso del 60% io in commissione giustamente ho chiesto come mai mi è stato detto che è stata data una valutazione del comune bene quindi questi lotti queste aree capisco che si vogliono mettere in vendita però in realtà lei sindaco nel 2014 diceva l'esempio la dismissione del terreno di Misano noi abbiamo un bello importante terreno a Misano il quale ha anche una sua capacità edificatoria e logicamente la prima cosa che mi viene in mente di fare che vi viene in mente di fare è venderlo riferito agli allora consiglieri di maggioranza del PD perché no perché non fare immediatamente cassa perché voi perché per voi le parole housing sociale che è un progetto simile a quello che vi dicevo quindi la possibilità che si dà a prezzi calmerati o più bassi alle famiglie in difficoltà per voi l'housing sociale è assolutamente turco cioè pensare veramente di andare a rispondere a quei ricionesi giovani soprattutto che condivido sindaco tra l'altro che se ne sono andati dalla nostra realtà perché non permettete assolutamente a un giovane di rimanere in questi ultimi dieci anni avete dato concludiamo consigliere in alcun modo risposto a bisogno abitativo della città di Riccione la visione è un po' questa nel senso che io mi aspettavo e lo ridico come spunto di riflessione mi aspettavo che ci fosse una visione in questo bilancio in questo elemento legato appunto alle nazioni diversa non puramente dedicata alla vendita ma con intelligenza l'abbertazione è un altro esempio qui si parla di 10 milioni che è un valore indicativo come è stato scritto ma anche alla destinazione d'uso non c'è un dettaglio sul progetto delle terme non sappiamo quando partirà non c'è un dettaglio nelle nazioni nel triennale non è presente tranne ovviamente le nazioni delle abbertazioni abbiamo detto più volte che il progetto delle terme è importante adesso si dice che le abbertazioni insieme alla spiaggia verrà venduta ma quanti soldi chiediamo cioè noi abbiamo dei soldi fermi per dei valori e dei beni che non sono in vendita per il mercato grazie grazie consigliera Cinzia Bozzone PD prego grazie presidente della parola a proposito di alle nazioni io volevo fare una piccola così riflessione riguardo allo stabile della CGL che è stato menzionato più volte era mia intenzione come dire rinverdire un po' quello che è stato la storicità di questo palazzo di questa struttura la CGL diciamo che è un pezzo della storia della nostra città ed è sorta nel 1970 ad oggi sono 5.000 gli iscritti vengono svolte 25.000 pratiche all'anno gratuite per gli iscritti e no ci sono 22 operatori che collaborano in diversi settori ora adesso non è mia intenzione questa sera a fare una polemica strumentale per ragioni strane al tema di cui sto trattando perché io questa sera non rappresento la CGL io questa sera rappresento un migliaio di persone che nel 1974 hanno compiuto questa sottoscrizione qui ci sono oltre mille persone che hanno contribuito alla realizzazione di quello che allora poteva sembrare un sogno cioè su un terreno di proprietà comunale la realizzazione di questa casa che tutelasse i diritti dei lavoratori ma anche delle persone ripeto non iscritte qui è molto istruttivo e mi sono così immersa un po' nella lettura perché queste persone hanno contribuito sono ricordate questo non è ci tengo a dirlo un elenco di comunisti nella maniera più assoluta qui ci sono persone della città imprenditori commercianti operai probabilmente qualcuno di noi avrà qualche parente che attraverso una sottoscrizione ha contribuito a questa realizzazione poi ci sono dicevo imprenditori operai persone che hanno voluto fortemente la realizzazione di questa casa addirittura uomini e donne che hanno non potendo così a seconda delle proprie possibilità ovviamente hanno contribuito attraverso delle giornate di lavoro quindi secondo me questa casa questa struttura ha un valore altamente simbolico ma di fatto è stata fondata con la fatica e il sudore dei ricionesi che a loro volta hanno contribuito a che cosa? A lo sviluppo della nostra città non dimentichiamocelo quindi questo sogno è diventato realtà questo ha rappresentato un motivo di grande orgoglio per queste persone e oggi la vendita di questa sede ovviamente non può non lasciare un sentimento di mortificazione di amarezza perché dietro a quel denaro dicevo ci sono uomini e donne che con il loro sacrificio e il loro impegno hanno permesso di riconoscere e tutelare i diritti di tutte le persone nessuno escluso sono io li chiamo capitale umano che ha contribuito come dicevo prima alla crescita della nostra città la memoria dunque è un esercizio importante perché qui di memoria si parla per fare in modo di mantenere sempre vivi i valori fondamentali come dignità e solidarietà perché anche di questo si tratta di solidarietà e questa è l'innovazione di cui parlava Elena Raffelli svendere la nostra memoria non credo oppure un inutile orpello come sosteneva Luigi Santi nel suo intervento faceva riferimento alla vendita degli inutili orpelli no forse scusa l'ha fatto il capogruppo pardon mi sbaglio comunque io non lo considero assolutamente un inutile orpello anzi io lo considero un diritto di tutti noi sostenere diciamo sostenere il valore simbolico di questa struttura noi come partito democratico non ci fermeremo e quello che chiedo all'amministrazione invece è se è stato inserito il diritto di prelazione ma soprattutto chiedo un maggiore sforzo nel segno di quella solidarietà di quella coesione che citavo prima nell'eventualità che il sindacato dovesse lasciare gli immobili per ragioni legali noi chiediamo che questo immobile appunto venga destinato per degli scopi sociali come una casa di riposo per anziani e o altro sì esatto noi dicevo non ci fermeremo perché riteniamo ancora molto importante trasmettere alle nuove generazioni certi valori e certi messaggi e quindi mi auguro che ecco anche l'amministrazione su questa cosa faccia una riflessione grazie grazie consigliera ci sono altri interventi consigliere Cichetti 5 stelle devo una precisazione a Montanari adesso sentendo gli interventi qui del PD sinceramente io non ne faccio una battaglia ideologica per me io darei mandato pieno la tose di vendere tutto quello che è possibile vendere anche qui la sala del consiglio comunale andiamo a fare il consiglio comunale al Vittor così scrocco lo sprizza a terra in canti non mi interessa e gli darei anche l'intermediazione tanto per essere chiaro ideologicamente come sono impostato il problema a Montanari è che a Riccione non si vende più niente capisci questo? se ci sono degli imprenditori che hanno speso milioni di euro per acquisire immobili di importanza e poi le lasciano lì marcire vuol dire che Riccione dal punto di vista immobiliare non ha più appeal non ha più interesse questo è il dato che io ti volevo trasmettere quando ti ho citato il sole 24 ore te l'ho citato perché per il sole 24 ore siamo la città in Italia che perdi di più nel mercato immobiliare ma rispetto alla valorizzazione che gli dà lo Stato l'OMI e l'osservatorio mobiliare italiano ed è l'organo dell'agenzia delle entrate che si occupa di definire i valori immobiliari bene a Riccione vengono venduti all'asta parimentare alla metà del valore minimo ha un terzo del valore massimo questo è il dato se tu vieni in banca con me domani mattina io sono andato mi hanno detto mi finanziano il magazzino mi finanziano le fatture mi finanziano se voglio cambiare la macchina mi finanziano se voglio cambiare lo scooter mi finanziano anche le tette di mia moglie no no finanziano anche quelle te lo posso assicurare finanziano anche quelle se vuoi no no per dire ma non mi finanziano un mattone il mattone non me lo finanziano il mattone ne hanno tonnellate da vendere lì dentro dentro le banche io mi sono dimenticato di citarti le conchiglie le conchiglie lì cosa fa non è brutto quel mattone non è neanche tanto brutto si può mettere sistemare ma non c'è nessuno che ha voglia di venire a investire a Riccione questo è lo stato di fatto allora o cambiamo un po' mentalità e cerchiamo tutti quanti di lavorare in una direzione un po' più innovativa non mi portate qui i trenini di architetti che devono progettare la città futura portate qui i trenini di gente che dice io investo domani mattina ho i soldi metto giù i soldi i stimattoni abbandonati allora tu se mi metti 3 milioni e 100 per la CGL e c'è il bombo qui che è già di qualcuno che è solo da sistemare trovi l'imprenditore che va a spendere 3 milioni e 100 se vai in banca sai quanti immobili trova a Riccione per meno di 3 milioni e 100 trova degli alberghi interi trova degli alberghi interi con 3 milioni e 100 anche le conchiglie gli danno con 3 milioni e 100 vogliamo provare domani mattina andare in cassa di risparmio di Rimini in Carin con 3 milioni e 100 sull'unghia se non te la danno e quella lì arriva al mare non è in via le ceccarini alta cosa ci fai lì cosa ci fai lì ci fai 2 appartamenti 3 mini appartamenti mancano i mini appartamenti a Riccione ci fai 2 cose 2 negozi sotto mancano i negozi da affittare Riccione ho finito mancano ancora 6 minuti ce ne ho ancora ma non è una questione politica ripeto non è una questione di maggioranza e minoranza è una questione di mercato è mercato mercato vieni domani mattina con me in banca e andiamo a trovare uno che ci dà due soldi per un mattone non lo trovi più l'ha detto la banca d'Italia i mattoni in Italia non si vendono più oppure dobbiamo riempirci di immigrati ma loro non vogliono quindi non si può quanti figli abbiamo fatto non li abbiamo fatti i figli se non abbiamo i figli che crescono siamo noi che invecchiamo e basta te quanti appartamenti lasci i tuoi figli ne hai ecco bravo e siete in due quindi quindi due che lasciano due case il discorso è questo demograficamente non cresciamo demograficamente non cresciamo abbiamo gli immobili non abbiamo i figli o le fai venire da fuori questo è un discorso è un discorso matematico non cambia niente aspetta un attimo finisco e c'è il discorso sulle scuole guarda che le pascoli è andato è stata venduta a ottobre preliminare è stato fatto a ottobre se non volevate vendere le pascoli alla provincia cos'erano le pascoli scusate forse sbaglio eh va bene le manfroni ma voi tu hai accusato loro che vendevano le scuole una scuola l'avete venduta anche voi perché il preliminare è stato fatto a ottobre e gli avete pagato addirittura il notaio alla provincia ne abbiamo c'è stato il preliminare 1800 euro per Ortolani l'avete tirato fuori voi è il primo caso in cui il venditore paga il notaio perché di solito lo paga il compratore tutto qui grazie consigliere ci sono altri interventi sindaco l'assessore Monaco prego sì devo delle risposte di carattere tecnico al consigliere Casatei perché la delibera in effetti è una delibera innovativa come ha fatto a notare il consigliere gli anni precedenti una previsione di questo tipo non c'era nel senso che se arrivava in consiglio comunale si approvava un piano delle alienazioni dove nei cespiti in cui non c'era una perizia tecnica definitiva l'importo era zero non veniva indicato nessun importo neanche un importo presunto neanche un importo stimato come è stato brutalmente definito dal consigliere Casadei l'importo era zero a quel punto il dirigente aveva di fatto carta bianca per vendere perché nel momento in cui il consiglio comunale approvava la vendita era poi il dirigente istituire il bando far far la perizia tecnica definitiva e procedere con l'alienazione del bene quindi quello che vorrei spiegare un attimo a voi di cinesi magari anche chiarire un po' al consigliere Casadei è che questa delibera va letta diversamente nel senso che laddove ci troviamo cespiti nel piano delle nazioni con perizia tecnica definitiva il valore è quello la caccetta 712.500 euro era 1.2 milione è sceso a 900 ma è arrivata a quella cifra dopo due bandi di gara deserti quindi due riduzioni del 5% ogni volta perché il regolamento delle nazioni del comune l'articolo 18 prevede che si va a trattativa diretta solo dopo due bandi con due riduzioni del 5% quindi tornando un attimo sulla delibera quindi laddove è una perizia definitiva tecnica qui già presente sui cespiti in questo piano delle nazioni devo tornare al consiglio comunale se voglio scendere sotto quei valori non c'è ombra di dubbio laddove non c'è una perizia tecnica definitiva e quindi ci sono quei valori che abbiamo messo frutto di indagini di mercato chiaramente non sono perizia tecnica che sono indagini di mercato l'appartamento di Valle Diaz abbiamo messo 50 vale 100 magari sono contento l'abbertazione abbiamo messo 10 milioni l'abbiamo messa nel 2017 non l'abbiamo messa nel 2015 l'abbertazione è una pratica molto importante come ha detto il sindaco abbiamo scoperto che c'è anche una spiaggia quindi la destinazione autosica è tutta ancora da valutare tornando quindi dicevo laddove non c'è una perizia tecnica definitiva cosa succede? viene dato mandato l'aggiunta di appunto fino a un range del 15% viene di fatto posto un paletto al dirigente cioè laddove questa perizia tecnica dovesse scendere oltre il 15% deve passare per l'aggiunta chiaramente poi questa amministrazione passerà il consiglio comunale perché la tanto decantata trasparenza verrà anche passando per il consiglio comunale non c'è nulla da nascondere sono beni di tutti quindi assolutamente non vogliamo riservarci nessun diritto togliendolo a questa sede che è la più importante quello che volevo dire è che molti di questi fabbricati hanno delle problematiche dopo l'assessore Cesarini se volete qui tra sistemazioni sanatorie di cui necessitano per essere venduti quindi l'aver venduto la Pascoli addossandoci il costo del preliminare sarà il minore dei problemi consigliere Cicchetti quanto ai lotti di via Veneto in commissione abbiamo parlato quelli erano stati inseriti in dei ppg scaduti da oltre dieci anni di fatto cosa dice la norma che la parte inattuata diventi inattuabile a quel punto nel caso in cui tutte le urbanizzazioni siano state completate come in questo caso qui allora si può edificare la stessa tipologia di fabbricati e così andremo avanti per quello che riguarda invece Misano il valore è sceso del 60% perché parte dei lotti erano stati venduti più o meno la metà quindi da lì la decurtazione del 60% per il resto io non mi sento di aggiungere altro un appunto alla consigliere Bauzone come ha detto il sindaco prima l'apporto e il contributo del sindacato l'ho evidenziato io nella mia relazione perché abbiamo un rapporto aperto e costruttivo per tutto ciò che riguarda l'ISE il sostegno nel sociale nelle rette nelle agevolazioni comunitari quindi riconosciamo un ruolo determinante il sindacato abbiamo incontrato quelli della CGL in un tavolo molto aperto e costruttivo gli abbiamo offerto in via non ufficiale la prelazione cioè gli abbiamo detto guardi siamo intenzionati a mettere in mente tal bene vi interessa loro si stanno guardando intorno stanno facendo le valutazioni chiaro che non abbiamo nulla contro la CGL riteniamo importantissimo il loro servizio rientra nel piano delle valorizzazioni sì rientra nel piano delle valorizzazioni io a livello personale lo dico io ci sono rimasto molto male quando è stata venduta la Manfroni anche quella aveva un grandissimo valore simbolico per buona parte della cittadinanza quasi tutti noi abbiamo fatto le scuole lì è stata venduta e trasformata in appartamenti alla metà sfitti va bene ha accettato la vendita con la morte nel cuore però è stato fatto io penso che la vendita della Manfroni sia assolutamente paragonabile alla dismissione della palazzina della CGL lì sono stati mille sottoscrittori lì ci sono stati migliaia di bambini che sono cresciuti e formati lì tutto qui grazie assessore ci sarebbero le conclusioni del sindaco se ha intenzione di replicare senza tediare ma due piccole precisazioni devono essere appunto fatte in primis quella riguardante il terreno di Misano Adriatico bisogna però andare a leggere tutti gli interventi Casadei e non estrapolarli perché era grazie all'intervento della minoranza tutta che finalmente vennero inseriti i terreni di Misano Adriatico che il comune di Ricione neanche sapeva di avere nel comune di Misano e ne abbiamo ancora due piccoli pezzi perché il valore è stato diminuito rispetto a quello precedente nel piano delle valorizzazioni perché la parte diciamo più diretta e appetibile è andata immediatamente in vendita con un introito che stiamo concludendo ovvero nell'incasso quindi con la concessione anche della rateizzazione quello che c'è rimasto anche per aiutare chi segue il consiglio comunale di che trattasi sono due pezzi di terreno più precisamente il primo in adiacenza a Via Platani in Misano Adriatico e Via Platani è il viale immediatamente dopo faccio un po' di pubblicità ma non credo me ne talcerà nessuno subito dopo Ristorante La Stazione a Misano Adriatico quindi un primo pezzo lo abbiamo nell'angolo di Via Platani mentre la restante parte l'abbiamo oltrepassata la parte della signora Ceschina Marina e quindi intercluso nell'ambito della sua stessa proprietà con difficoltà di intervento in queste due distinte zone abbiamo quindi per orato continuiamo per orare con il comune di Misano che un po' nicchia a proposito affinché tutta la capacità edificatoria dei due lotti sia traslata nella parte più appetibile che è appunto quella vicino alla strada per poter andare alla vendita dell'immobile stesso ecco questo tipo di attività che oggi è da parte mia molto presente e molto presente e sarà anche fortemente richiesta non è mai stata fatta quindi si è pensato di vendere il buono che era un lotto con una capacità diretta ed immediata mentre questo che rimane con una capacità di POC quindi impossibile da attuare attraverso l'housing sociale ma anche questa precisazione non mi è mai stata fatta dal PD perché probabilmente non lo sapeva neanche in sede di richiesta di emendamento al bilancio perché io emendavo anche il bilancio inserendo e sottraendo dalle vendite il terreno di Misano Adriatico e prevedendo anche nel bilancio stesso i soldi per la realizzazione dell'housing sociale nessuno mi ha mai fatto eccezione nella presentazione dell'emendamento che non era neanche possibile perché è sottoposto ad una disciplina urbanistica che non lo permette quindi io sto lavorando in maniera pressante con il comune di Misano appunto affinché ci regali questa capacità edificatoria tutta nel punto più appetibile si possa procedere alla vendita al più presto per quanto riguarda la CGL ha già puntualizzato in maniera precisa anche l'assessore Monaco il valore testimoniale delle Manfroni era un valore testimoniale immenso io ho assistito ad una pantomima relativamente alle Manfroni che non dimenticherò mai io la storia dei vetrini della Manfroni mi rimarrà indelebile i vetrini che improvvisamente si spostavano e che causavano un pericolo imminente ai bambini che frequentavano la scuola credo che sia stata la burla più grossa che si poteva regalare ai cittadini riccionesi non solo la seconda che venne al tempo dichiarata dall'assessore ai servizi sociali e ai servizi educativi era che non si sarebbe mai lo ricordo guarda puntuale potrei virgolertarlo non si sarebbe mai vendute le Manfroni fino a quando non si potevano cominciare la scuola nuova alla fornace venne venduta secca e pura con un cambio di destinazione d'uso non solo ed un aumento di superficie con l'ennesima burla e io vi invito ad andare in via Molari che sotto al piano terra si poteva passare con una servitù di passaggio che non è stata mai realizzata questi erano i piani di valorizzazione del PD io non sono affetta da Alzheimer anzi ho anche troppa memoria e questa volta mi fa male perché ancora questo tipo di operazioni che sono state calate come delle ferite sulla città io le ricordo puntualmente ancora mi fanno sangue quelli erano i valori testimoniali di una città non nego che la CGL in quanto valore non architettonico e non storico testimoniale sia stato comunque un lavoro sociale importante lo abbiamo riconosciuto incontrandoli non gli interessa niente a loro Cinzia non gli interessa niente anzi addirittura sono arrivati alla rideterminazione delle superfici di cui hanno bisogno oggi hanno bisogno solo di 200 metri quadri di uffici non hanno più bisogno di tutta quella superficie soprattutto la scala che è un problema per entrare in quell'edificio oggi lo rimarcano come ancora di più un ostacolo e quindi stanno cercando un edificio nuovo dove ci sia un ascensore dove possono prestare ancora meglio i loro servizi i servizi oggi nel 2015 nel 2020 vengono dati in maniera moderna in maniera differente io sono un'escritta alla CGL e lo ricorda sempre il presidente quando viene perché io per problemi miei ahimè ho fatto pratiche presso la CGL non gli interessa niente di stare in Viale Ceccarini di stare in quell'edificio non rivendicano nulla anche perché forse sono ancora più onesti di quello che si ricorda qui perché quando si tratta di chiedere leggasi teatro del mare chiedete 50.000 euro e non se ne parla più quando si tratta di pagare leggasi CGL ci date 14.000 euro e vanno bene perché c'è tutto il motivo sociale c'è tutto la questione morale c'è tutta la questione dietro quindi io credo e lo hanno riconosciuto loro con grande onestà intellettuale che 40 anni anzi 42 anni di utilizzo di un immobile che hanno sì contribuito a realizzare sia più che sufficiente perché è stata completamente esaurita la loro funzione per quanto riguarda le perizie credo che sia stato puntuale e preciso questa amministrazione è stata leggerotta dopo i bandi nella vendita degli immobili l'abbiamo detto più volte io mi sono presa anche una querela a questo proposito il dottor Nicolini mi querelò perché avevo dichiarato che le vendite di certi immobili erano stati fatte in maniera così con valori che non riputavo neanche corretti mi querelò a questo proposito però era così cioè dopo i due bandi il dirigente aveva la possibilità di vendere a trattativa privata a qualsiasi valore oggi noi abbiamo messo un paletto che si tratta appunto quella della riduzione del 15% non perché non ci si fidi del dirigente ma perché credo che la parte politica tutta in primis la giunta ma noi torneremo tranquillamente serenamente in consiglio comunale debba poter controllare quando il valore si riduce oltre al 15% grazie sindaco metterei quindi in in merito alla richiesta dove praticamente una pratica dove se per esempio mancare di un elemento è ovvio che si ritornerà in consiglio comunale anche perché voglio dire la perizia e quindi la stima esatta è un elemento essenziale che lo stesso notaio chiede ai fini quindi del rogito dell'atto non so se sono stata chiara per cui è ovvio anche quando si parla di valori presuntivi dove praticamente non dovesse corrispondere poi quel valore in sede di si ritorna in consiglio comunale perché l'ultima parola sta sempre al consiglio comunale e anche al di fuori del 15% allora se in questo caso è stato quindi stabilito il 15% è legittimo trattenerlo in giunta o no? praticamente il consiglio comunale può delegare in questo caso la giunta in questo caso sta demandando alla giunta con questo limite io lo so che lo stiamo demandando però quello che a me non torna è che c'è un decreto legislativo che impedisce di farlo poi dopo noi potremo fare quello che vogliamo però se c'è un decreto come noi ci possiamo ma io lo dico anche come segnale politico nel senso che se a tutti va bene essere trasparenti allora siamo trasparenti e torniamo in consiglio cioè non riesco a capire questo passaggio forzato e forzoso secondo me semplicemente questo poi io chiedevo il suo intervento nello spiegarmi se è una cosa fattibile al di là che lo possiamo fare che il consiglio lo possa fare però visto che io ho richiamato un decreto legislativo che dice il contrario volevo soltanto capire se realmente non stiamo forzando una cosa 267 del 2000 che converte la legge 142 del 90 che vieta le deleghe trasferite dal consiglio raggiunta perfetto però voglio dire questa è una cosa diversa allora il consiglio comunale è competente e quindi non può delegare ad autorizzare le compravendite perché nel senso l'articolo 42 è una competenza esclusiva del consiglio comunale e attraverso questo piano e quindi l'autorizzazione che viene data dal consiglio comunale quindi organo deputato effettivamente il consiglio comunale sta autorizzando e sta autorizzando anche con dei valori diciamo di massima e anche demandando in un range comunque stabilito sempre qui all'interno del piano eventualmente quali possono essere i valori all'interno dei quali ci si può muovere per cui effettivamente non si sta derogando assolutamente alla competenza del consiglio comunale ove invece praticamente si dovesse andare al di fuori di questo range è ovvio che si ritornerà in consiglio comunale per avere l'altra autorizzazione che è diversa da quella che attualmente il consiglio comunale sta esprimendo il consiglio comunale esprime l'autorizzazione alle compravendite e sta fissando un valore di massima e anche diciamo un range all'interno del quale ci si può muovere ove questo range non dovesse essere rispettato è ovvio che si ritornerà in consiglio comunale perché non non è l'autorizzazione che è stata data non è che non ci sia trasparenza in una delibera di giunta le delibere di giunta sono puntualmente entro 7-8 giorni pubblicate sul sito tutte quindi qualsiasi attività che viene compiuta o dall'organo esecutivo o dall'organo politico viene resa pubblico sempre grazie possiamo passare direttamente quindi alla votazione se non ci sono dichiarazioni di voto quindi poniamo la delibera del piano triennale delle alienazioni in votazione prego con 16 voti favorevoli 6 voti contrari e 2 astenuti la delibera è approvata passiamo quindi al successivo punto dell'ordine del giorno approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 ed elenco dei lavori annuali 2015 propone l'assessore Roberto Cesarini perché la non riesco non si chiedere questo si attiviamo il microfono dell'assessore va bene lo stesso metto di qua chiedo la va bene buonasera dunque dopo tutti gli interventi che ci sono stati fino ad ora sia dei consiglieri di maggioranza sia del dottor Monaco che del sindaco comunque hanno toccato seppur a volo d'uccello anche l'essenza delle tematiche del del triennale che tra l'altro anche in questa sede nelle sue linee essenziali avevamo già esplicato il discorso credo che farò un mero esercizio di tautologia nel senso che e questo vuole essere anche il segno che tutto quello che viene portato all'attenzione dei consiglieri ma anche all'attenzione della cittadinanza è il lavoro di una squadra è il lavoro di una squadra che non sta solo in questi banchi ma è il lavoro di una squadra che condividiamo con i consiglieri dunque per quanto riguarda appunto le linee essenziali del piano triennale delle opere pubbliche non posso che ripetere che c'è una grandissima attenzione alla manutenzione e io credo che questo sia un esercizio di buonsenso come già diceva prima il dottor Monaco con la saggezza del pater familias non possiamo arrivare qua e stravolgere completamente le impostazioni che ci vengono solo da pochi mesi or sono sarebbe dal nostro punto di vista anche irresponsabile certo che vogliamo piano piano dare dei segni e su questo concordo perfettamente con quanto diceva il consigliere Cicchetti no? che chiedeva dei segni no? ecco stavo guardando quello che significava l'autologia sul buono no va bene ripeto quelle che cose che sono già state dette e tu chiedevi dei segni secondo me dei segni ma ripeto ripeto sono stati sono stati dati il il dato che puntiamo così tanto sulla manutenzione è un dato che non risolve i problemi del mondo ma è innovativo è un dato che su questa manutenzione l'abbiamo divisa sia la manutenzione degli edifici pubblici come è già stato ampiamente detto che hanno fortemente bisogno di essere mantenuti purtroppo voglio aggiungere tra parentesi non solo per Vettustà avrete visto ci sono 250 mila euro per la riparazione del tetto della della piscina comunale che è in corso un accertamento tecnico preventivo speriamo mi viene da dire speriamo siano sufficienti no è chiaro che lì non parliamo di problemi di di Vettustà ecco quindi edifici pubblici edifici pubblici un problema era anche legato al fatto che questi edifici abbiamo bisogno di usarli abbiamo bisogno di usarli e per essere usati hanno bisogno delle loro regolari agibilità abitabilità eccetera ti devo dire senza andare nello specifico che quando pensavamo di usare certi edifici per fare certe cose questo non si può fare perché non c'è questo questo non si può fare perché non c'è quell'altro allora mettiamo apposta roba cosa vengono fare e lo spirito è stato estremamente questo francamente anche leggermente meravigliato diciamo del fatto che fossimo ancora a questo punto quindi ripeto non solo sugli edifici pubblici ma anche sulle infrastrutture pubbliche che vuol dire mettere mano agli arredi come già abbiamo iniziato a fare facendo piccoli anche interventi di decolo ma anche fare degli interventi anche un pochino più pesanti sulle strade sui marciapiedi dentro a questo bilancio che vuol dire due cose innanzitutto abbiamo cominciato a portare ecco questi sono un pochino i segni che chiedevi io ti chiedo di prenderli così per quello piccoli che sono abbiamo cercato di fare un ragionamento anche con con GEAT riguardo al fatto che alcune cose abbiamo incominciato a portarle in house perché certe cose comunque messe in quei capitoli stavano diciamo nella completa disponibilità e responsabilità di GEAT ma azzardo a dire anche qualcosa di più nel senso che abbiamo francamente fatto un ragionamento con il settore sostanzialmente per portare in house le manutenzioni stradali che sarebbe una cosa importante per le cose già che dicevi prima in realtà prima di caricare la macchina di carichi troppo forti che ora non può portare devo aggiustare prima la macchina sostanzialmente questo e anche rinforzarla e anche rinforzarla perché non è un carico da poco però è un ragionamento che abbiamo fatto un ragionamento che rifaremo insieme che rifaremo anche con GEAT per dire che insomma in questo senso mi sento di condividere quello che dicevi per quanto riguarda poi del piano diciamo così annuale è chiaro che ci sono così come dire vecchi progetti che ci siamo sentiti anche di confermare perché era giusto confermarli tra l'altro alcuni anche venuti da alcune sollecitazioni di questo intervento in grazioni non ricordo dell'opposizione e anche questo a me appare un un atteggiamento responsabile e per inserire nuovi lavori e chiaramente c'è il passo lungo e il passo lungo dal punto di vista degli edifici pubblici abbiamo fatto una scelta che è quella di puntare non ho nessun problema a dire di nuovo sull'edilizia scolastica non mi voglio dilungare sull'importanza che riveste per noi credo come ogni cittadino italiano vedo che anche il governo è molto impegnato su questo stiamo lavorando anche sull'emendamento che vi fa l'emendamento la richiesta di utilizzare l'otto per mille abbiamo una scuola stiamo aspettando che il miur ci risponda una parte 5 per mille 5 per mille vabbè una quantità non lo so il miur anche oggi ha chiesto agli uffici se mi potrebbero dare un ritorno ma il miur ancora non ha dato una risposta su quello però abbiamo chiesto finanziamento importante così come su altre scuole abbiamo fatto proprio qualche giorno fa una puntata in regione a parlare col dirigente regionale alla scuola in cui abbiamo spiegato qual era il nostro piano di edilizia scolastica che ha avuto modo di apprezzare tantissimo e quindi la possibilità di inserirsi già in quest'anno nel riperimento di mutui c'è già l'ottenimento di un mutuo a tasso zero del credito sportivo per la palestra di Nicabrandi mi sembra quindi il trend è sostanzialmente questo per quanto riguarda invece l'idilista scolastica lo ripeto l'abbiamo detto tante volte una prevista nel 2016 il completamento della scuola di via di Fontanelle diciamo così e invece la nuova costruzione per il 2017 quindi molto in là del rifacimento della scuola di Panoramica per quanto riguarda invece gli aspetti infrastrutturali abbiamo come dire via esumato tolto dalle secche lo sfondamento di via 19 ottobre che secondo noi è un pezzo importante che manca al completamento dei nostri assi viari e sempre più là nel tempo perché ci bisogna di tempo per le progettazioni e anche per i finanziamenti francamente devo dire perché io ovviamente condivido tutto quello che è stato detto prima c'è stata forte attenzione al sociale piuttosto che al turismo io quando mi metto in fila diciamo così per essere tranquillamente perché io credo anch'io che un grosso problema che hanno oggi tutti i cittadini devono sentire che hanno oggi le famiglie è la mancanza di soldi e di lavoro e su questo noi dobbiamo essere tutti impegnati e quindi tutti responsabili da questo punto di vista non ultimo dicevo anche abbiamo inserito l'allargamento di via Venezia perché crediamo che anche questa sia un'opera importante che vada a completare assieme alla speriamo non so quando arriverà la nuova statale che adesso con i problemi di Anas forse tarderà un pochino di più rispetto a quello che pensavamo intanto stiamo realizzando una parte assieme al comune di Rimini al comune di Misano una parte che riconosciamo che ha delle criticità ma è sempre bene stare su quei tavoli e cercare di portare a casa quei finanziamenti per portare a casa quella strada Assessore volevo essere sintetico in realtà forse mi sono dilungato comunque sono a disposizione per eventuali chiarimenti ci sono interventi relativamente a questa delibera da parte dei gruppi consigliere Casadei Partito Democratico per gli emendamenti presentiamo gli emendamenti sono già stati presentati ovviamente ce ne sono quattro relativamente a questa delibera non vengono presentati adesso come tutte le delibere viene messa in discussione la delibera dopo di che ci sono gli emendamenti una volta votati gli emendamenti si vota la delibera come emendata dagli emendamenti che vengono messi in votazione quindi la mia domanda se c'erano interventi era riferito al corpo principale della delibera di fatto se volete fare intervento principale per essere chiari sì sì intervento principale consigliere Ubaldi prego grazie allora il piano triennale è fondamentale no? in tema di bilancio devo fare un punto perché ne ho sentite un po' mi piace come al solito sottolineare alcuni alcuni punti sul discorso delle alienazioni ho sentito ancora una volta comunicare ottimamente una cosa poi decido di partire da questo discorso perché ho sott'occhio l'intervento che proprio il sindaco fece l'anno scorso se poi veniamo all'elencazione che assessore ha fatto lei riferito a Lavaro mi dispiace ma ancora una volta cercate di mettere in vendita delle opere senza avere propria perizia quindi senza conoscere in realtà il valore potenziale quindi sono valori puramente inventati buttati lì giusto per far quadrare il bilancio quando si parla di alienazioni e andiamo a vedere quello che è il report delle alienazioni noi vediamo che la caccetta sì come ha detto l'assessore Monaco è calata da 900 a 712 l'area di Misano è sul milione e mezzo più o meno però abbiamo la CGL a 3 milioni e 100 indipendentemente da tutto abbiamo un milione e mezzo in più quindi quando si vuole fare attenzione sul fatto che noi diamo dei valori più fatti poi spariamo una bomba micidiale sul valore della CGL una perizia che non sta in piedi il migliore immobiliare non riuscirebbe a vendere quell'immobile a quell'importo e lo sapete anche voi passiamo alla scuola facciamo un attimo chiarezza hai detto una cosa Emanuele che non ha ragione ad esistere sulla scuola siamo sempre stati molto molto presenti sulla Geocenci per far quadrato anche col discorso della Manfroni noi abbiamo venduto la Manfroni ma ci abbiamo fatto la più bella scuola della provincia piazza o non piazza c'era il pericolo qualcuno qualcuno si lamentava per quell'istituto uno scandalo come pare a te se è alluvionata la città lì l'acqua non è arrivata chiuso discorso le arancioni le arancioni abbiamo vinto un bando regionale ma le arancioni abbiamo vinto un bando regionale e le blu i lavori portati avanti tutti gli interventi scolastici che avete già programmato sono interventi ereditati dalla legislatura precedente quindi inutile che mi parli di una disattenzione sugli istituti sulla scuola in generale per noi le scuole è stata importante l'abbiamo portata a casa con i denti che tu non le immagini neanche la vendita degli immobili ok l'ho chiarita il boulevard dei pasaggi sindaco a lei ogni tanto piace sbordare è molto portata a un'ottima dialettica ma non si rende conto di che bombate riesce a tirare ha parlato di 350.000 euro ha messo un dettaglio uno zero in più erano 30 come no si si erano 35.000 euro presi da un fondo europeo per Andrea Schipar e lì al di là dell'effetto ottimo del richiamo del green park lì parliamo di green economy vera i danni lungomare 2 bisogna che lo precisiamo alla fine di quella legislatura erano 3 milioni di euro è una errata gestione del piano del traffico in particolar modo nella gestione dei parcheggi dell'Abissinia e tutto questo si poteva evitare si chiama arte della capacità di mediazione che non c'è stata i lotti di via Veneto li ha individuati la gestione uno specifico addirittura Massimo Pironi e aspettavamo solamente una variante a rue quindi non li ha individuati né lei né l'attuale giunta lei porta avanti giustamente un corretto modus operandi di chi l'ha preceduta le nuove voci che andiamo a vedere entrando nello specifico le nuove voci nel piano triennale sono la scuola di via Panoramica e quella di via Carpi nel completamento sono due voci il resto del triennale è un lavoro già fatto pianificato cioè voi state è quello che dicevo è una sorta di continuità state continuando a portare avanti un ottimo lavoro fatto in tema di programmazione quindi non potete dire che c'è uno stravolgimento c'è una minima integrazione e qui arriviamo al punto che poi mi interessa perché poi quando diciamo bisogna fare le cose a modo bisogna avere la trasparenza e quant'altro arriviamo alla nota dolente quella che io interpreto come nota dolente poi ognuno di voi è libero di darmi le spiegazioni del caso il triennale è il momento attuativo degli studi di fattibilità lo studio di fattibilità per chi non lo sapesse è quel documento che mette dentro il progetto il conto economico e per quanto riguarda anche la strumentazione urbanistica questo documento dice che c'è la fattibilità oppure anche la non opportunità perché la fattibilità è legata anche all'opportunità di non farlo vuol dire che non ci sono i presupposti su una battuta del sindaco nell'ultima commissione vale a dire ieri è venuto fuori il discorso sulla pista ciclabile credo che parlavamo io e te Elena sul fatto che mi ha ricordato giustamente che da 100.000 euro al milione lo studio di fattibilità è obbligatorio stamattina io mi sono recato negli uffici ho fatto una richiesta un accesso agli atti urgente sono arrivato negli uffici ho chiesto a mezzogiorno e mezza più o meno c'era anche William ho chiesto di poter prendere visione giustamente c'era anche la pausa pranzo i tecnici sono andati a pranzo ci siamo ridati appuntamento per le 3 alle 3 sono arrivato e ho preso visione vado in sintesi perché poi mancano 3 minuti quasi 4 sono emersi studi del 2006 e 2010 la legge prevede che sia possibile sia chiaro però ci sono stati degli sviluppi in base al RUE e al PSC che richiedono una rivisitazione di questi studi parto voce per voce su quella che è stata la mia analisi completamente dalla scuola di Iacarpi ho visto la fotocopia di una piantina non c'era nessuno studio dopo 20 minuti mi è arrivata una documentazione con le cartine colorate tra l'altro firmata non a data specifica ma con la scritta dicembre 2014 proprio abbozzata chiuso andiamo avanti sfondamento 19 ottobre terzo stralcio è fuori dal triennale vuol dire che in pratica si sviluppa su tre anni ma non è non è previsto nessuno studio in merito quindi anche questo mi ha lasciato un grosso punto interrogativo la ciclabile di Viale Veneto è un progetto originale senza modifiche così come presentate dalla maggioranza agli abitanti cioè siete anche usciti previò carta stampa cioè avete detto agli abitanti che quello verrà modificato non c'è nessuna modifica sulla ciclabile via Veneto che verrà modificata è uscito credo addirittura l'assessore pubblicamente non c'è uno studio alternativo nel caso andava messo no no va bene confermate quello quindi ai cittadini a cui avete promesso che saranno le modifiche glielo state dicendo stasera che non era vero che rimane l'originale no no ma va benissimo a me non è che abito vicino ma non sono di San Lorenzo perfetto la stessa cosa per via Venezia prima parlavamo di Apea con Apea l'avremmo fatto e avremmo speso anche qualcosa meno anche io ti faccio l'occhiolino nel senso che il progetto è stato modificato decurtato meno costoso per centinaia di migliaia di euro oggi il tecnico col quale ho parlato mi ha parlato della modifica vuol dire una rinuncia da un'opera costata sui 2 milioni e 9 si va sui 2 e 2 con questa rinuncia un risparmio di 6-700 mila euro e su questo non esiste il progetto aggiornato il progetto del primo maggio è un progetto vecchio che tiene conto delle nuove variazioni che sono state dal punto di vista urbanistico subordinate al porto sono subordinate al porto tra l'altro ci sono i pochi che abbiamo votato l'anno scorso il progetto non è aggiornato lo dico anche perché ci sono i revisioni dei conti vorrei che la cosa fosse chiara scuola di via panoramica la scuola di via panoramica Tosi sindaco lei l'anno scorso disse che era l'emergenza assoluta io la vedo se ho sbagliato male a vedere nel 2017 se non sbaglio come intervento 2017 quindi non è proprio una grande emergenza la risposta che mi è stata data non c'era nulla su via panoramica non c'era non ci deve essere nulla dopo questo me lo spiega lei no io non lo devo sapere io vendo le birre lei è il sindaco la risposta che mi è stata sta spattaccando l'assessore non era Palmiro Cangini ma era un tecnico stava spattaccando l'assessore uno studio di fattibilità è un atto d'ufficio dovuto su una opera di 2 milioni di euro deve essere a disposizione soprattutto in fase di approvazione del triennale e io non ho avuto visioni di questa cosa ma cosa spattacchiamo a fare se è tutto già pronto cosa ci stiamo a spattaccare a fare cioè stasera si vota il bilancio qualcuno sta spattaccando a uno studio di fattibilità e la domanda gliela rigiro a lei sindaco se un suo tecnico non sa che non serve uno studio di fattibilità le perplessità sono più le sue che le mie non c'è problema dopo 20 minuti che giro morale della favola tra gli uffici mi viene portata una cartella rossa concludiamo sì certo ancora però prima che finisca il tempo mi viene portata una cartella rossa con all'interno l'antincendio e l'antisismica della scuola elementare di Riccione Paese io ho perso le lezioni ma non ho perso il cervello grazie grazie consigliere grazie 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 silenzio grazie per cortesia grazie consigliere una precisazione visto che le sue precisazioni nei confronti dei nostri uffici sono sempre puntuali la sua richiesta di accesso agli atti per gli studi di fattibilità è datata 16 aprile mattina ecco quindi magari averli chiesti un po' prima visto che si parla di progetti che sono stati inseriti nel triennale più di 30 giorni fa magari non avrebbe messo in condizione gli uffici di fare le corsa e avrebbe messo lei in condizione questa sera di avere tutti i documenti grazie e la parola al consigliere Arcangeli che l'aveva già chiesta grazie grazie presidente dunque io vorrei fare una considerazione appunto sul piano triennale degli investimenti e a riguardo al vizio di forma che appunto riguarda la voce 60.460 gli interventi contro l'erosione marina e la gestione del sabbiadotto che ovviamente per un vizio di forma non è stata presa in considerazione come ammendamento e niente la mia considerazione è questa che appunto sul sulle risorse che l'amministrazione ha deciso di investire sull'erosione marina e sulla gestione del sabbiadotto è chiaro che l'amministrazione appunto attende solo le risorse messe a disposizione dalla regione è questo no? solo 100.000 euro dal comune di Riccione fa sorridere appunto nel mio caso fa un po' piangere visto che comunque sono interessato insieme anche a Palazzi per quello che riguarda il mare e sindaco come diceva appunto prima il consigliere lei nel consiglio del 19 di febbraio ha promesso delle risorse importanti per la categoria e quindi per la spiaggia le sue parole sono state appunto quelle mi metto le mani in tasca se i finanziamenti non arrivano per la stagione che ha le porte li metrò io personalmente quindi addirittura aveva menzionato entro Pasqua quindi la Pasqua l'abbiamo bella che è passata e ancora diceva che l'economia della nostra città è il mare e noi lo sappiamo bene questo era il suo discorso sempre pur parler sempre in politichese bene quindi avete presentato le stesse risorse proposte nella passata amministrazione quindi i 150.000 metri cubi mancanti come dicevi te Andrea Palazzi bisognava mettergli almeno un fermino da parte del comune però non è stato inserito niente quindi l'emergenza è reale e a fronte di questa emergenza noi aspettiamo ancora aspettiamo ancora dalla mareggiata del 6 di febbraio voi avete neanche aggiunto un errore in più di quello che c'era nel passato bilancio a quella voce e questo è grave è grave perché le promesse sono sempre promesse ma rimangono tali tali guardando anche il porto il porto promessa di risistemare dopo il 6 di febbraio la piccola pesca e anche quello che è la darsena di Levante e la darsena di Ponente avete messo soltanto dei pannelli dei pannelli a copertura di quello che dovevate sistemare se questa è la vostra politica io sindaco penso che gli operatori non si accontenteranno di quello che arriverà dalla regione perché non sappiamo se è uno o se è cento e quindi speravamo nelle sue belle parole in qualcosa di sostanzioso io sindaco guardando questo mi viene da sorridere perché mi ricorda molto Pinocchio ma Pinocchio un sindaco nel paese dei Balocchi perché poi questo siamo diventati guardando anche il piazzale Roma di oggi io vedo una grandissima bellissima giostra che sicuramente farà la felicità di tanti bambini ma anche la felicità di Ambro Orfei giusto? Grazie concludo grazie consigliere anche qui devo un attimo fare la precisazione l'emendamento a cui si riferisce non è stato rigettato per un vizio di forma ma semplicemente non presentato perché la 241 non sbaglio la normativa vigente prevede che gli emendamenti per essere portati in consiglio comunale debbano essere dotati di parere tecnico e contabile anche negativi ma devono avere il parere la dirigente ai servizi finanziari ha risposto a chi aveva presentato il vostro emendamento dicendo che era incompleto e quindi non si poteva esprimere parere quindi non è un vizio di forma ma una mancanza di sostanza perché l'emendamento non era sufficientemente chiaro perché gli potesse venire dato un parere quindi non è un semplice vizio di forma non cerchiamo di suggerire a chi ci ascolta il fatto che blocchiamo gli emendamenti per delle virgole mancava una parte importante dell'emendamento e il consigliere è già intervenuto c'è un intervento per gruppo sembra sempre che qui tutti quanti dobbiamo avere l'ultima parola e il consigliere Cicchetti se dice una cosa il presidente non è che poi si richiede la parola per rispondere al presidente guarda caso però sono il presidente del consiglio comunale ecco molto bene posso? allora è rivolta sempre a te Lile perché no è una risposta che volevo dare ma tra l'altro mi ha dato anche un'idea siccome mancano i soldi e le cerchiamo nell'immobiliare e abbiamo già detto che l'immobiliare non si prendono prima Roberto Monaco mi ha ricordato Rimini Holding io quella domanda lì tramite i consiglieri del 5 Stelle che sono a Rimini l'avevo fatta fare il consiglio comunale e il suo omologo Brasini ha detto noi Rimini Holding l'abbiamo fatta per risparmiare sull'IRES per risparmiare sull'IRES perché loro come saldo incassavano dei dividendi i dividendi i grassi dividendi che incassano derivano e vediamo furbescamente che la Tosi se le tiene in tasca e adesso poi arriviamo a dove ricavare i soldi derivano da due società mi fai il nome per cortesia ERA e l'altra Romagnacque fai il bravo Romagnacque allora ERA si possono sono 5 milioni che sono dentro GEAT quindi una società nostra domani mattina si possono vendere oggi sono calate dallo 0,35 ma dal 2012 valgono una volta e mezza erano arrivate un euro adesso vanno verso i due euro e mezzo quelle si possono vendere domani mattina sono 12 milioni che si possono portare a casa non mettendo un immobile che non si sa chi lo vende adesso tirano le azioni si può andare a vendere ERA e Romagnacque e poi dite che non facciamo proposte sono conclusi gli interventi da parte dei consiglieri consigliera Ermetti Noricionesi prego buonasera mi dispiace essere ripetitiva perché se ne è parlato ormai tutta la sera però purtroppo nel piano triennale noi siamo costretti a occuparci della sistemazione di ciò che esiste già io penso che a noi sarebbe piaciuto rifare qualcosa di nuovo e qualcosa di immediato ma purtroppo dobbiamo mettere le toppe a quello che avete fatto voi perché è opportuno e doveroso investire da parte di questa amministrazione nel recuperare gli errori passati come quando si deve recuperare a scuola un 5 un 4 e investire quindi in quei lavori pubblici che come si dice nel nostro gergo tecnico non sono stati realizzati ad opera d'arte quindi in una casa se abbiamo una perdita non possiamo occuparci dobbiamo chiamare prima l'idraulico se abbiamo i tempi contati prima di occuparci di comprare il mega schermo quindi io credo che il piano triennale sia di grande qualifica per questa amministrazione per questi cittadini che si devono meritare una riccione migliore una riccione più decorosa infatti prima di tutto completare le infrastrutture miglioramento come diceva l'assessore Cesarini migliorare e riqualificare gli edifici scolastici e sportivi e chiaramente la loro messa in sicurezza come dicevo prima completamento delle infrastrutture e manutenzione delle infrastrutture esistenti infatti l'asfaltatura è uno dei temi di particolare importanza e particolarmente sentiti dai cittadini e fanno parte di quella come ha detto il sindaco di quelle manutenzioni primarie che rendono dignitosa e decorosa la città quindi sarà primura di questa di questa amministrazione occuparsene partendo proprio dalle manutenzioni delle manutenzioni più urgenti quindi come sappiamo e come sapete voi sono già in previsione ed inserite nel piano dell'asfalto quindi un piano che è costituito da un programma molto ampio e si propone prima di tutto di lavorare nelle strade per le strade per le strade dove i lavori sono già stati iniziati per poi passare occuparsi invece di tutte quelle strade che invece devono dal nuovo essere sistemate chiaramente sono già stati effettuati come diceva l'assessore Cesarini dei sopraluoghi delle verifiche tecniche e ci si occuperà di tutte le strade e di tutte le segnalazioni dei cittadini ai quali si dà e si darà sempre un ascolto prioritario e con i quali si cercherà sempre di lavorare con grande sinergia grazie grazie consigliera se non ci sono interventi da parte del del